Acqua pubblica o acqua da cea, abbiamo visto che in questi giorni è diventato un tema scottante che rischia di dividere la maggioranza possibili divorzi in vista? Ma al momento bisogna prendere atto di quello che sta succedendo, però insomma io non ne farei una tragedia. Tutto sommato anche all'interno, ad esempio se possiamo prendere una delle emozioni che stamattina non si sono discusse, che so, di quella dell'istituzione del registro delle coppie di fatto, anche all'interno stesso del nostro partito ci sono delle posizioni diverse. Comunque noi non dobbiamo dimenticare quella che deve essere la stella polare per qualunque amministrazione e che il mandato ricevuto dai cittadini è un mandato che impone all'amministrazione uscita dalle urne di governare. Noi dobbiamo governare e nel governare dobbiamo far sì che di volta in volta si scelgano le soluzioni migliori per questa città. E uscendo da una situazione come quella da cui noi usciamo e che ci siamo trovati davanti, di giorno in giorno avvengono dei fatti nuovi da un punto di vista economico, nel senso che i decreti ingiuntivi, debiti fuori in bilancio di cui dovremo e dobbiamo assumerci quotidianamente la responsabilità. Ebbene di fronte a questa situazione noi spesso non possiamo, proprio siamo impossibilitati a scegliere la soluzione migliore. E allora che cosa si fa? Si cerca discutendo, confrontandoci, portando ognuno il proprio contributo per quelle che sono le proprie esperienze, la propria cultura, senza tirar fuori parole strane su cui poi adesso ci ritornerò un attimo. Dicevo, spesso siamo costretti, saremo costretti a scegliere quella che è la soluzione meno peggio, se così mi si può consentire il termine. Ed allora ecco che in questa ricerca di soluzioni che di volta in volta l'ideale sarebbe che fossero tutte condivise, ma se così non è si va avanti seguendo un po' quello che a livello nazionale il nostro segretario Bersani e il segretario di Selvendo l'hanno deciso. Cioè sulle grandi questioni, sulle questioni in cui inevitabilmente, invariabilmente si hanno delle opinioni diverse, poi si vota e a maggioranza passerà quello che è l'intendimento della maggioranza numerica. Detto questo, io però vorrei ancora ricordare una cosa, che quando si fanno gli interventi in Consiglio Comunale bisogna comunque tenere da parte un certo tipo di animosità, perché poi con l'animosità si evita di essere lucidi, si ragiona magari in maniera troppo animosa e si evita, diciamo, di intravedere quelle che potrebbero essere soluzioni migliori. E poi soprattutto si deve pensare che davanti si hanno degli interlocutori che più che interlocutori sono compagni di viaggio. La gente ci ha votato per dare a questa città una nuova amministrazione. Noi stiamo cercando di farlo e non vorrei che mentre cerchiamo di farlo qualcuno pensi a fare qualche altra cosa. Io lo escludo nella maniera più assoluta, però al momento non credo che ci siano, diciamo, ulteriori divisioni, oltre quelle che si sono viste e che si sono appalesate stamattina. Penso che l'intendimento sia comune, anche perché chi vuole fare qualche altra cosa deve tenere ben presente quello che è stato il recente passato amministrativo di questa città. Il recente è meno recente, gli ultimi 10-11 anni di questa città. E se noi adesso paghiamo, diciamo, queste asperità, queste tortuosità di percorso amministrativo, lo dobbiamo proprio a quello che abbiamo trovato. Non è una scusa, ma è una realtà sotto gli occhi di tutti. Poi due cose mi preme di sottolineare. La prima è l'assoluta buona fede del sindaco Tidei, perché ieri, se ricordiamo bene come sono andati i fatti e voi eravate presenti, quando c'era la nostra riunione di maggioranza, il sindaco trovandosi davanti un bel numero di cittadini che volevano appunto notizie, spero che volessero soltanto notizie e che non volessero mettere in maniera strumentale altra carne al fuoco, ma questo è un mio pensiero e me lo tengo per me. Tutto sommato la buona fede del sindaco Tidei che ha trasformato una riunione di maggioranza, essendo convinto della validità del ragionamento che lui sta facendo e che sicuramente non è un ragionamento chiuso, è un ragionamento aperto. E poi alla fine concluderò cercando appunto di aprire questo ragionamento anche ai nostri compagni di amministrazione. Dicevo, il sindaco ha trasformato questa riunione di maggioranza in un'assemblea pubblica, spiegando le ragioni, spiegando i numeri, portando i numeri che tutto sommato ci impediscono di ragionare come vorremmo ragionare, perché poi alla fine i numeri sono i numeri, i debiti si devono pagare, gli investimenti che non sono stati fatti, se vogliamo continuare ad avere un'acqua, a proposito di acqua che si parla, dobbiamo effettuarli, perché senza investimenti poi alla fine significa che non vogliamo più diciamo avere un servizio all'altezza delle esigenze della città. Poi tutto il resto, se qualcuno fa delle polemiche strumentali non mi interessano, se qualcuno vuole andare a fare una campagna elettorale se ne assumerai responsabilità, noi per quanto ci riguarda, per quanto riguarda il mio partito, per quanto riguarda l'intendimento del sindaco, è governare questa città nel modo migliore possibile e come ho detto e come ripeto, non sempre possiamo, ci piacerebbe a tutti, scegliere le soluzioni migliori, spesso siamo costretti a scegliere quelle meno peggio proprio perché impossibilitati da tante contingenze economiche. Grazie.